Siamo con Nando Medineo di Emozionando, qual è il tuo piatto stasera qui a Polissimi? Allora, Emozionando sul mare, quindi abbiamo fatto un incontro tra il Mediterraneo con la parte della montagna, caviale di melanzana, abbiamo messo uno sgombro marinato a fudo con della colatura e poi un couscous con del curry e dello yogurt. Perciò sempre giocando sulle varie consistenze, giocando sulle varie alternanze di sapori? Lo sai, l'Emozionando nasce perché deve creare emozione e piacere, quindi qua abbiamo tanta emozione e tanta acidità perché il piatto è molto acido e quindi questo segna un po' il cambiamento. Diciamo il tuo locale, quanti posti ha e quando è aperto? Allora, noi siamo aperti tutti i giorni dal martedì alla domenica, la domenica a franzo, solo di sera nel resto degli altri giorni e a settembre cambieremo sede, quindi vi terremo aggiornati sulla nuova sede. Per crescere e per emozionare sempre di più. Grazie. 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 Grazie.